www.redigio.it e la storia continua Passaporto per l'aldilà Il culto delle reliquie e il passaporto per l'aldilà Per secoli le sacre spoglie furono ricercate e contese e non ci fu chiesa che rinunciasse a consegnare almeno un frammento alla devozione popolare L'importanza attribuita alle reliquie dei santi rappresenta uno dei tratti fondamentali della civiltà medievale non solo sul piano religioso e artistico come si può ancora constatare numerose chiese e sagrestie che conservano splendidi reliquiari di quest'epoca ma anche nel campo economico, sociale e giudiziario È sulle reliquie o sul Vangelo che si prestano i giuramenti più solenni in particolare quando un grande in questo mondo doveva giustificarsi di fronte ad accuse di notevole gravità ed erano le reliquie a essere portate in processione per le città ad avvicinarsi del nemico o per far cessare un'epidemia Infine c'è da dire che senza le offerte raccolte tra i fedeli dai questuanti in occasione delle ostensioni itineranti delle reliquie non vi è alcun dubbio che le cattedrali gotiche d'Europa nord-occidentale così come i grandi santuari in meta di pellegrinaggio San Martino di Tur a San Giacomo a Compostela non avrebbero potuto essere costruiti o ricostruiti in forme tanto sontuose tra cielo e terra La credenza nel potere delle reliquie risale ai primi secoli del cristianesimo e non costituiva in origine che un aspetto del culto reso ai martiri agli occhi dei primi cristiani infatti l'esempio fornito da questi ultimi che avevano perseverato nella fede in Cristo fino all'estremo sacrificio a dispetto dei supplizi che erano stati loro inflitti testimoniava in essi una presenza divina i loro corpi divenuti tempio dello Spirito Santo non potevano non conservare dopo la morte la traccia della potenza soprannaturale che li aveva animati fu così che a partire dal secondo secolo dopo Cristo si prese l'abitudine di rendere particolari onori ai resti dei martiri sia che si trattasse del corpo intero quando questo era stato conservato dalla testa o anche solo di panni macchiati di sangue dal momento in cui nell'impero romano le persecuzioni cessarono fu la volta in realtà di altri tipi di santi i cosiddetti confessori della fede che pur non avendo subito il martirio si erano prodigati con coraggio per la diffusione del messaggio evangelico e la difesa dell'ortodossia ed è questo il caso dei santi vescovi o che si erano in qualche modo segnalati per le loro imprese ascetiche come i primi monaci del deserto dell'Egitto e della Siria quando il culto cristiano venne ufficialmente riconosciuto nel quarto secolo dopo Cristo furono costruiti monumenti commemorativi memoria oppure martirio cui seguirono presto grandi basiliche per proteggere le reliquie e stimolare la devozione dei fedeli nei loro confronti le tombe dei santi e le chiese a esse consacrate costituivano altrettanti punti di contatto privilegiati fra il cielo e la terra e le città che potevano vantare il possesso di simili reliquie ne trassero un grande prestigio così da quest'epoca i papi fondarono la loro rivendicazione del primato della chiesa di Roma sul fatto che la città eterna possedeva i corpi dei due principali apostoli Pietro e Paolo al che il clero di Costantinopoli e il potere imperiale replicarono concentrando nella nuova capitale le reliquie di San Timoteo Sant'Andrea San Luca San Foca e anche del profeta Samuele i cui resti furono condotti in solenne procensione da Gerusalemme fino alle rive del Bosforo e più in generale ogni città del mondo cristiano tanto in Oriente che in Occidente che aveva la fortuna di possedere il corpo di uno o di più santi si sentiva protetta e come purificata dal sangue immacolato dei martiri che ha cacciato la razza nemica dei demoni secondo le parole del poeta latino cristiano Aurelio Prudenzio Clemente che è del secolo IV e V e quante più reliquie si potevano accumulare in un dato luogo tanto più probabilità si avevano di essere al riparo da ogni genere di mali e dietro a questo baluardo spirituale la cui efficacia non era minimamente messa in dubbio www.redigio.it e la storia continua